Sono Alessandro e quest'anno ho organizzato Laravel Day insieme al GRUSP. E' un evento che si tiene il 24 settembre mattina, vi potete scrivere sul sito laravelday.it edizione del 2021. E' un'unica traccia di quattro talk che si svolgono come vi dicevo la mattina, apre Roberto Gallea parlandoci di service container, poi ci sarà Mauro Vello che ci parla di sicurezza, poi avremo Filippo Galante che ci parla di deploy e poi chiuderà tutto quanto nel Leonardo Rossi con un deep dive su Blade. Il pomeriggio non continueremo con dei talk, ma faremo un piccolo meet up in cui Giuseppe Morelli ci parla di Shopify ed era applicato come utility per l'interconnessione di sistema di prodotti e di e-commerce in generale. Poi vi ricordo sempre che come ogni anno abbiamo un workshop tenuto da Roberto Gallea che ci parla di applicazioni modulittiche sulla base del talk che ho fatto l'anno scorso. Avverrà il 7 e l'11 ottobre di quest'anno. Spero di trovarvi numerosi all'evento. Grazie.